I grandi capolavori architettonici di Galla Placidia. Per chi non avesse visto l'altro video, che comunque vi consiglio, il contesto. Galla è figlia dell'imperatore Teodosio, sorella di Arcadio e Onorio. Mentre Arcadio se ne sta bello tranquillo regnare in Oriente, Galla si ritrova a seguire il fratello Scemo in Occidente. La situazione diventa particolarmente sgradevole quando Alarico, dopo aver saccheggiato Roma, si prende Galla come ostaggio, come trofeo di guerra e se la porta in giro per tutta l'Italia mentre affronta le armate nemiche. Dopo la morte di Alarico, Galla comincia ad avere sempre più influenza sul suo successore, Ataulfo. Nel 414 Ataulfo decide di sposarla, non solo, ma di sposarla con rito romano e consegna alla sposa il bottino che Alarico si era portato via da Roma durante il saccheggio. Con quel matrimonio i Visigoti sperano di diventare cittadini a tutti gli effetti dell'impero. Il piano potrebbe anche funzionare se non che il povero Ataulfo muore. Entro la fine del decennio, praticamente tutti i protagonisti del video precedente sono morti, tranne Galla e Onorio. Oltre naturalmente all'onnipresente Costanzo, che mentre faceva la guerra su cinque fronti ha trovato anche il tempo per fare la pace con i Visigoti e per riportare Galla a Ravenna. E qui comincia la sua ascesa. Galla, che all'epoca ha più o meno 25 anni, diventa subito una figura di riferimento non soltanto nel mondo politico, ma anche in quello religioso. Infatti lei ha capito perfettamente, forse prima degli altri, l'importanza che ormai ha il cristianesimo all'interno dell'impero. E ne diventa la più importante protettrice. Lotta contro il paganesimo, lotta contro le resie, interviene personalmente in dispute religiose di grande importanza. Nel 417 sposa senza grande entusiasmo Costanzo, e il loro figlio Valentiniano diventa di fatto l'eree del trono di Roma. Ma Galla è ancora, anche a tutti gli effetti, una principessa dei Visigoti. Che nel frattempo, sotto il nuovo re Teodorico, sono diventati alleati potenti, ma non troppo affidabili, dell'impero. E Galla riesce in qualche modo a tenerli sotto controllo. Dopo la morte di Costanzo, Galla diventa di fatto la padrona dell'impero d'occidente. Per 12 anni assume la reggenza in nome del figlio, e anche quando questo diventa maggiorenne, continua a stare al suo fianco e a guidare l'impero che passa un periodo particolarmente critico, minacciato da invasioni straniere, da rivolte interne e da crisi religiose. Tutto questo riesce anche a arricchire l'Italia, e in particolare Ravenna, di un patrimonio artistico e architettonico senza precedenti, destinato a segnare l'intera storia dell'arte alto medievale. Un lavoro che già era stato iniziato da Onorio, ma si era un po' incepato per quei piccoli problemini politici di cui si aveva parlato, e che lei porta invece a compimento. Oggi in Ravenna abbiamo ancora tre edifici risalenti a quell'epoca. La chiesa di San Giovanni Evangelista, il Battistero degli Ortodossi, e il Mausoleo di Galla Placidia. Ma andiamo a vederli. La chiesa di San Giovanni Evangelista la troviamo a pochi metri dalla stazione, un po' fuori dai percorsi turistici, ed è un vero peccato, perché è un vero gioiello di architettura alto medievale. È la chiesa più antica di Ravenna, e credo anche una delle chiese più antiche d'Italia ad aver mantenuto la struttura originaria. Anche se in effetti alcune modifiche, alcuni cambiamenti, sono stati fatti nel corso dei secoli, soprattutto durante il barocco, trasformandola in questa roba qua. Ma non preoccupatevi, perché ci pensa la Seconda Guerra Mondiale a mettere le cose a posto. La chiesa viene infatti pesantemente bombardata dagli alleati e subisce un ampio restauro che riporta alla luce la struttura originaria. O meglio, lo scheletro della struttura originaria, perché siamo nel 425 e all'epoca hanno il vizio di piazzare mosaici, oro e decorazioni colorate praticamente ovunque. Proprio letteralmente ovunque. Guardate questi intarsi di marmo. Se fossimo nel rinascimento, o anche in parte nel mondo antico, gli scultori lavorerebbero sui pieni, sui vuoti, utilizzando la luce per creare effetti decorativi. Qui no. Qui ci mettono lo smalto. Ovunque, appena trovano un buco libero, devono piazzarci dentro qualcosa di colorato. Quindi quando vedete chiese come queste, dovete immaginarle molto più... ...esagerate. E questi erano pure ricchi. Quindi ci davano dentro con l'oro, con le pietre preziose, con l'argento, con gli smalti. Più roba c'è, meglio è. Che già la vita fa schifo. Almeno a chiesa vogliamo qualcosa di spettacolare. Vogliamo che il fedele sappia che c'è qualcosa di meglio. L'uomo deve vedere nella chiesa un'immagine della meraviglia che lo aspetterà dopo la morte. Evento che, vista l'epoca, potrebbe accadere anche molto presto. Le grandi decorazioni fanno sì che l'architettura, di fatto, sia in realtà molto semplice, molto essenziale, con grandi spazi vuoti per essere decorati. Nessun transetto, nessun elemento aggiuntivo, ma una grande sala rettangolare, molto semplice, che richiama quelle delle basiliche civili romane, con colonne ravvicinate, questa bellissima abside e grandi finestre ovunque, anche al pian terreno. Non ci sono zone di buio e di luce, giochi di chiaroscuro come nelle chiese romaniche e alti medievali, no. Qui tutta la chiesa è uniformemente illuminata, proprio per esaltare le decorazioni che c'erano in origine. Creando un modello che verrà utilizzato in moltissime chiese di Ravenna, ma anche fuori in tutta l'area di influenze ravennate. Il secondo edificio che andiamo a vedere oggi è il Battestero degli Ortodossi, chiamato anche Battestero Neoniano, che, attenzione, non è ortodosso nel senso moderno del termine, naturalmente, ma nel senso dell'epoca, cioè ortodosso, quindi non ariano, quindi legato alla chiesa di Roma. E anche non è in realtà opera di Neone. Battestero viene fatto costruire dal vescovo Ursus, quasi 50 anni prima del Neone, proprio durante il periodo di Galla Placidia. Siamo quindi all'inizio del V secolo e il Battestero viene realizzato parallelamente alla cattedrale, di cui però non resta nulla, come parte di un grande piano urbanistico, iniziato in realtà da Onorio e poi portato a compimento massimo da Galla Placidia. E non si tratta soltanto di abbellire la città o di mostrare la potenza di Galla, queste costruzioni sono anche un manifesto religioso. Galla, come dicevo prima, era molto legata alla chiesa di Roma e aveva capito perfettamente il potere del cristianesimo. In questi anni lo scontro religioso si traduce anche in scontro politico. E viceversa. Anche a Bisanza, ad esempio, in questi anni abbiamo lo scontro tra Nestorio e Cirillo, che porterà poi alla morte di Pazza di Alessandria. In Occidente stessa cosa, il conflitto tra goti e romani è anche un conflitto tra ariani e ortodossi, due fazioni del cristianesimo che cercano di imporsi anche da un punto di vista politico. Non a caso Teodorico farà erigere anche lui un battistero, in competizione con questo, dedito al culto ariano, del quale però parleremo, spero, nel prossimo video. Galla vuole urlare al mondo che il cristianesimo, quello vero, quello romano, è l'unico ufficiale. E lei quando urla, urla. Qui abbiamo un edificio monumentale, quasi una torre. Una struttura ottagonale ispirata al modello di Cromazio di Aquileia, ma con una spiccata verticalità. Perché attenzione, quello che vediamo è soltanto una parte dell'edificio. La struttura originaria cominciava circa due metri e mezzo più in basso. Questo è importantissimo per tutti gli edifici di Ravenna. Ok, ricordate nel vecchio video in cui parlavo del fatto che Ravenna è fatta in mezzo ai paludi? Ecco, questa caratteristica, assieme ad altre legate proprio alla geologia della zona, fa se Ravenna abbia uno dei fenomeni di subsidenza più estremi che abbia mai visto. L'intera città sta sprofondando a una velocità notevole. E più gli edifici sono antichi, più sono in basso. Quindi anche solo per capire le proporzioni, dobbiamo sempre immaginare altri due, a volte anche tre metri di muro sotto quello che vediamo. Quindi abbiamo questa torre di mattoni, alta una quindicina di metri, con questa enorme cupola. Cupola che, attenzione, non è opera di Galla o di Ursus, ma viene realizzata proprio da Neone, 50 anni dopo. che porta ai massimi livelli quel tipo di ricerca espressiva e artistica iniziata da Galla. Dunque abbiamo un esterno fatto in mattoni. E questo è già molto interessante, la spettacolarità è tutta rivolta all'interno. E all'interno abbiamo qualcosa di veramente eccezionale. Partiamo dal basso. Al centro abbiamo una fonte battesimale che è in parte originale e in parte rifatta nel corso dei secoli. La struttura, dicevamo, è a pianta ottagonale, ma con quattro nicchie, che creano un gioco di volumi che si contrappone ai giochi cromatici dei marmi sulle quattro pareti piene. Tra l'altro in tarsi di marmo policromo che sono bellissimi. Poi abbiamo una prima fascia di mosaici, a temi vegetali e figurativi, che contrastano nettamente con le linee geometriche dei marmi. Al secondo livello abbiamo nuovamente la pietra. Ma non più geometrie, bensì figure. Abbiamo otto finestre affiancate, ognuna da due nicchie, con queste statue in basso l'ullievo. Ecco, qui, assieme anche ad alcuni edifici del prossimo video, siamo veramente all'apice dell'arte tardo-antica. Perché abbiamo ancora un'estetica e in parte anche una tecnica legate al mondo romano, unite però a una simbologia e una concezione dell'arte che sono già fortemente cristiane, quasi medievali. e che non troveremo mai più. Perché dopo questo periodo l'arte orientale andrà a irrigidirsi in forme bizantine più tipiche e quello occidentale subirà invece una progressiva contaminazione e anche una crisi a livello tecnico che la porterà a perdere totalmente legami con il mondo classico, con il mondo antico. Legami che vediamo soprattutto nei mosaici del livello superiore. Anche qui abbiamo un passaggio da motivi geometrici a quelli vegetali, architettonici, fino alle figure umane. Ed è un ciclo di una ricchezza, anche a livello di forme, di colori, di materiali, che lascia veramente senza parole. Immaginate di essere un battezzando del V secolo e che questo sia il biglietto da visita della vostra nuova religione. Oppure immaginate di essere un artista che vede queste opere e poi viene chiamato a lavorare a Milano, ad Aquileia e porta, che lo vogliono, non può farne a meno, una parte di queste idee con sé in quegli edifici e diffonde lo stile. Ma cosa stiamo vedendo esattamente? Allora, il ciclo si legge dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Le figure in pietra sono i profeti e altri personaggi dell'Antico Testamento. Nella parte mosaico invece, legata al Nuovo Testamento, abbiamo a livello esterno questi loggiati, queste architetture in cui si alternano dei troni vuoti e altri in cui troviamo proprio i Vangeli. Al secondo livello, su un fondo di questo blu intensissimo, che adoro, abbiamo i 12 Apostoli che non sono dettagliati e realistici come le figure del mondo antico, ma hanno ancora tutta quella dinamicità. Se avete visto i mosaici bizantini o quelli medievali, qui siamo ancora proprio in un altro mondo. C'è quasi questo effetto a spirale che ti fa seguire con gli occhi il movimento circolare dei personaggi. E poi c'è l'apice, il battesimo di Cristo. E anche qui, da un lato c'è già il medievali in arrivo, dall'altro c'è ancora molto classicismo. Ad esempio, nel tentativo di rendere la trasparenza dell'acqua, ma anche a livello iconografico. Infatti, se guardate bene, qui abbiamo questo. Che non è altro che la personificazione del Giordano, del fiume. Quindi, una concezione iconografica e anche teologica, se vogliamo, che è classica da far paura e che nessun artista medievale mai si sognerebbe. La personificazione di una forza naturale è pagano in un modo assurdo. Il terzo edificio, invece, che guardiamo oggi è proprio il Mausoleo di Galla Placidia. Che, ricordiamo, non è un mausoleo e in cui non è sepolta Galla Placidia. Si tratta, infatti, sostanzialmente di un oratorio, che forse Galla voleva utilizzare come mausoleo per se stessa e per il fratello, cosa che invece non accadde perché morì a Roma e fu seppellita nel mausoleo onoriano vicino a San Pietro. Oggi è praticamente all'interno del giardino di San Vitale, ma in origine faceva parte di un complesso legato alla chiesa di Santa Croce, che oggi è una piccola chiesetta dell'arta parte della strada, ma che all'epoca era un edificio molto imponente, con questo grande nartecce che collegava a 90 gradi la facciata della chiesa con il mausoleo. Mausoleo, che esattamente come il Battestero Neoniano e come molti altri edifici, si trova due metri e mezzo sotto il terreno rispetto a quello che vediamo oggi. Infatti, se vediamo queste immagini, notiamo proprio come il livello del terreno sia completamente diverso, con un effetto completamente differente anche nella lettura delle architetture. Dobbiamo proprio immaginare proporzioni completamente differenti, sia all'esterno che soprattutto all'interno, e questo incide anche nella lettura di tutte quante le decorazioni. La struttura è a croce greca, con tre lati identici e un lato raddoppiato. All'esterno abbiamo questa struttura, di nuovo molto semplice, in mattoni regolari con questi archi ciechi che scandiscono la struttura e queste piccolissime finestre che rendono l'interno abbastanza buio rispetto ad altri edifici dell'epoca. All'interno invece abbiamo quattro volti a botte con una cupola centrale e quattro lunette laterali. Tutto interamente ricoperto di mosaici che sono tra i più raffinati della sua epoca. Tutta la cupola è dominata dal colore blu. Questo blu intenso e avvolgente che imita un cielo notturno in cui spiccano queste stelle dorate che riflettono la luce delle candele e i pochissimi raggi del sole che entrano dalle finestre. Lo stesso concetto viene ripetuto anche nelle volte a botte dove al posto delle stelle abbiamo invece delle tematiche floreali e geometriche sempre su questo fondo blu. E a vederlo dal vivo è un'atmosfera veramente meravigliosa. Se voi ascoltate la canzone Night and Day di Cole Porter, quel brano dicono è stato ispirato alla visione del soffitto del mausoleo di Gala Placidia. Poi ci sono le lunette che anche loro riprendono il blu del soffitto, quelle attorno alla cupola mostrano gli apostoli, mentre quelle ai lati hanno immagini di animali, anche queste con un notevole naturalismo ancora molto legato al mondo classico. Quella sopra l'ingresso invece mostra l'immagine del buon pastore, però vestito con le insegne imperiali. Anche qui un chiaro simbolo di legame tra politica e religione. Ecco, questi tre edifici, assieme a tutti gli altri che sono andati perduti nel tempo, rappresentano un tipo di iconografia, di architettura, di stile decorativo che diventerà il modello per moltissima arte alto medievale in tutta l'area soprattutto adriatica. E poi nella stessa Ravenna verrà ripresa anche con volontà di opposizione a volte da Teodorico e poi soprattutto da Giustiniano. Ma di questo naturalmente parleremo nel prossimo video. Quando arriverà?